Giuseppe Angelo Gaetano Cinquerughe, 43enne, pregiudicato, nisseno, è stato arrestato dagli agenti della sezione volante in esecuzione al provvedimento del GIP del Tribunale di Caltanissetta per i reati di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della sua compagna. La donna aveva presentato denunce in questura a seguito delle continue vessazioni subite e per l'insostenibile regime di vita familiare cui era costretta a vivere. Infatti l'uomo da qualche tempo era solito insultare, percuotere e minacciare la donna per futili motivi, costringendola poi a ricorrere anche a cure mediche a seguito delle violenze subite. Adesso a seguito del provvedimento il 43enne dopo le formalità di rito è stato accompagnato al carcere Maraspina di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria.